Noi abbiamo scelto immediatamente la linea della denuncia perché appunto nel rispetto della dignità di ognuno di noi, ognuno deve avere il diritto di camminare per strada anche con una maglietta di una squadra diversa da quella della squadra di caso o della squadra avversaria, non nemica. Ho dimenticato il dolore fisico, ho dimenticato questa disavventura ma il sentimento che mi pervade è amarezza Luca perché ripeto non è concepibile come tre persone fra virgolette normali perché dobbiamo fare il distinguo fra gli ultras, quelli della curva eccetera eccetera, non esiste. Io posso capire gli sfottò, anche pesanti, posso capire tutta una serie di cose che avvengono ormai da troppi anni in Italia, ma mettere le mani addosso a tre persone che stanno camminando in ermi vicino allo stadio è una sensazione che mi provoca molta amarezza. Tu sei poi l'altro sono un uomo di sport, sono stato presidente di una squadra di pallacanese femminile fino a poco tempo fa, devo dire che con gli amici catanesi, con le squadre catanesi andavamo a mangiare dopo ogni partita. Purtroppo questa cosa che c'è attraverso il calcio che fa venire fuori tutto il peggio di noi stessi è veramente una cosa a cui bisogna porre il rimedio velocemente. Soprattutto avete avuto coraggio e forse è l'aspetto più importante di tutta questa vicenda perché molte volte nonostante si subiscano episodi di questa natura si sta in silenzio. Ma noi non avevamo altra scelta, peraltro esiste la legge, esiste la legalità e quindi chi infrange la legge e va fuori ai binari della legalità deve essere denunciato così come nel calcio, così come nella vita di tutti i giorni. Anche perché il resto, tutti altri comportamenti diversi dall'agire nel rispetto della legalità porta solo guai.